Allora, se li vuoi manipolare, parli dei risultati, a performance. E qui c'è un'altra carota, l'ansia da risultato. Ora, c'è anche nel calcio notato che la partita viene disegnata con le percentuali. Quanti hai corso, quanti ti hai fatto, 10 ti importa. Quals'è sopra l'80%, il tackle, il fonte di regamento, il 70%, poi il risultato finale, hai perso. Siamo così, focalizzati sulla performance, che magari hai giocato bene, hai perso e ti dispiace. Quindi, stai pensando alla performance. La performance è quella che ci dicevamo prima. Cioè, a me interessa avere una storia di duratura con un partner, oppure la performance è dare il primo bacio? Ho dato il primo bacio, performance! E c'è vene da hop, che sta dopo il primo bacio? E là viene tutto il bello. Ah, performance! Ti do 500 euro se vieni assunto. La performance, cioè noi abbiamo avuto il percentuale di basement di 83.3%, era pure più alta. Solo che era così alta che ho detto, no vabbè, abbassiamola perché è sempre proprio impossibile. Ne abbiamo manipolati. Quindi, abbiamo tenuto la performance. La performance comunque è poco lungiva. Shane ci spiega anche, questo è un bel libro, L'arte di creare fiducia, tutte queste cose avvenne qua. L'arte di creare fiducia, tutte queste cose avvenne qua.